un saluto agli amici del Corriere dello Sport e .it un saluto a Fabrizio Bentivoglio che ci è venuto a trovare nei nostri studi Fabrizio un esordio per te qui al Corriere dello Sport in questi studi allora sei qui per presentare il film di Paolo Sorrentino l'attesissimo film di Paolo Sorrentino il seguito in realtà perché è Loro Due, la seconda parte perché la prima è già uscita con un grandissimo successo e Loro Due uscirà in 520 copie in Italia c'è una grande attesa soprattutto per capire come proseguirà la storia allora tu Fabrizio partiamo dal tuo personaggio ovviamente il tuo personaggio è Santino Orecchia giusto? Santino Orecchia si chiama è un personaggio strano allora c'è chi dice che poteva essere associato a Sandro Bondi ma questa cosa è stata smentita dalle camice forse era più formigoni magari non lo so, dici tu, raccontaci un po' il personaggio intanto guarda, cominciamo col dire che il film si apre con questa folgorante, non so come dire frase di Manganelli che dice tutto documentato, tutto artificiale, insomma tutto finto non è questa la parola tutto vero, tutto finto sì che è come dire tutto vero, tutto finto ma appunto andando avanti parafrasando si potrebbe anche dire tutti indispensabili, tutti sostituibili ecco allora diciamo che in questa storia i personaggi indispensabili sono Silvio e Veronica e pochissimi altri intimi loro ma quelli veramente indispensabili sono tutti gli altri, nessuno escluso sono sostituibili e infatti Paolo li ha chiamati li ha sostituiti letteralmente e aggiungerei anche che nel possibile giro delle sostituzioni allargando il cerchio dei sostituti da loro si arriva a noi io personalmente lo vedo più come un film su come siamo diventati piuttosto che un film su come eravamo e credo che appunto essendo poi un la metafora di un artista o comunque il gesto di un cineasta né di un politico né di un giornalista è qualcosa che che punta ad altro che non al giochino appunto del chi e chi che mi rendo conto che è forse inevitabile fare ma secondo me varrebbe la pena di fare un passo un passo oltre sì un passo oltre perché in questo gioco delle somiglianze proprio perché lo sguardo che ha preso in anche inaspettatamente Paolo su questi personaggi è uno sguardo di di comprensione non vorrei dire di tenerezza ma quindi si 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 ti porta ti porta comunque esatto a comprenderli a capirli e anche a riconoscerli in qualche modo magari non nel senso che ti riconosci in loro ma li riconosci come qualcosa che ti sta attorno anche adesso nel senso che lì per forza di cose ci sono è durata quella roba lì è durata troppo tempo per non lasciarci attaccato qualche cosa ma e non dico solo strutturalmente dico proprio nei comportamenti negli atteggiamenti nei linguaggi nei modi di fare nei modi di essere nei modi di parlare in tutto e quindi purtroppo secondo me è un film molto triste in questo non so se poi è una cosa che beh che poi è in realtà triste perché poi in loro ci sono anche no è un film nel senso molto è difficile anche da non si può catalogare comunque però c'è anche ma prometto che a me è piaciuto molto nel senso io naturalmente ho visto sia l'uno sia il due quindi insomma e ho un un quadro completo di tutta la situazione l'ho anche fatto quindi insomma diciamo che ho più elementi per leggerlo e per capirlo però insomma è chiaro che poi è una cosa il gusto quello che ti che fa andare le persone fa dire beh è bello vai perché mi è piaciuto tutto questo è una cosa che sfugge ai nostri calcoli alla nostra percezione non sappiamo come funziona noi cerchiamo di far bene quello che facciamo come è lavorare tu ci hai già lavorato in passato ma come è stato tornare a lavorare con Sorrentino lavorare sul set di Sorrentino cosa che ha di differente ha di differente insomma capisci subito di essere dentro qualcosa di ma insomma questo lo capisci già in lettura perché poi Paolo ha un talento di scrittura nettamente superiore alla media e il film quando tu leggi la sceneggiatura è già lì lo vedi proprio sì e quindi quando poi lo vedi lo vedi veramente prima vedi leggi delle parolette su carta quindi quando poi arrivi sul set e incominci a vederlo proiettato in tridimensione è una gioia nel senso che vedi all'opera un appunto una mente creativa lo hai visto maturato dall'ultima volta in cui avevi lavorato insieme l'hai visto un po' diverso oppure sì insomma dall'amico di famiglia lui già aveva dato prova di sé quindi insomma forse un pochino più tranquillo però insomma Paolo è sempre stato così molto con le idee chiare ma al tempo stesso anche pronto a recepire la cosa che succede a farla sua insomma molto molto attento grande tra l'altro grande tifoso visto che siamo in ambiente calci grande tifoso del Napoli anche se non ama molto parlare del Napoli però diciamo che è uno che segue parecchio insomma sì sì insomma i grandi tifosi spesso e volentieri non amano sbagliare troppo il loro tifo mi capisco mi racconti un po' le differenze che ci sono per chi ovviamente non l'ha ancora visto perché deve ancora uscire però tra loro uno e loro due c'è una differenza di fondo insomma a partire da sì guarda secondo me la differenza io ti dico quando li ho visti ho detto e mi è stato detto che è stata anche una possibilità poi non è stata scelta per per tante ragioni probabilmente ma il loro loro due l'avrei intitolato lui direttamente quindi perché appunto è proprio un uno zoom diciamo rispetto a loro a poco a poco a poco a poco in loro uno ci si avvicina a lui che arriva dopo un po' dopo un bel po' e loro due si posa su di lui e non lo lascia più quindi è questa la grande differenza e oltre vabbè insomma poi credo come tutti come tutti i film con una dose così abbondante anche di di fantasia di creatività come dicevamo prima le cose vadano viste non si possono raccontare perché appunto come diceva il grande Kubrick non è tanto quello che succede ma come succede il modo ovviamente Sorrentino ha un suo modo di raccontare Berlusconi che non è un attacco a Berlusconi è un modo di raccontare la solitudine del potere forse credo che il discorso che facevamo prima per i personaggi sostituibili alla fine e di questo ne ho parlato ne parlo perché ne abbiamo parlato anche con Tony insomma credo che il discorso valga anche per lui nel senso che è sì lui ma è anche noi in qualche modo appunto vengono poi analizzati dei lati della persona che poi sono talmente universali ci riguardano talmente tutti come la paura della morte o appunto la paura di perdere la donna che è amata cioè dover riconoscere che c'è una fine di qualcosa no che sono cose che riconosciamo purtroppo tutti no e quindi ed è questo come dicevo prima che secondo me anche spiazza anche questo modo di guardare comprensivo con tenerezza grazie a tutti grazie a tutti